Innanzitutto voglio dire che Zema è un maestro, nel senso che è stato per noi che siamo cresciuti, poi lui e Saki hanno innovato un po' il calcio in Italia, perciò non posso che parlare bene e avere un grandissimo rispetto per il personaggio Zema. Diciamo che il 4-3-3 ho cercato di proseguire il suo lavoro e di dare degli accorgimenti nella fase difensiva, a cercare di mettere una squadra equilibrata in campo, che abbia compattezza, che sappia ripartire, però cerco anche di non stravolgere più di tanto perché secondo me a nove partite della fine non è che posso inventarmi io qualcosa. È fondamentale questo aspetto mentale e di come approcci la partita, di come devi andare a affrontare l'avversario, dal carattere, dalla determinazione, perché se sei molle, difficilmente ti salvi, perché ci sono delle squadre che sono abituate a lottare per la salvezza. Pescara non è mai stato abituato in questi anni a lottare per la salvezza, perciò bisogna far mente locale e essere consapevoli che dobbiamo affrontare le partite in questo modo. Che squadra ha trovato? Una squadra depressa? Ma i primi giorni chiaramente, sai, ha cambiato Zema, cambia Epifani, arrivo io, c'è un po' di sballottamento, è normale che sia così, però quando tu puoi i lavori, vai avanti, la testa va sul lavoro e cominci poi a pensare esclusivamente la partita. È dove io voglio portare la squadra. Quello che mi aspetto io è una partita coraggiosa, perché se noi andiamo lì, giochi timorosi, li aspetti con le qualità che hanno loro davanti, ti fanno male. Perciò mi auguro che le mie squadre abbiano quell'atteggiamento di pressione e di non abbassarsi, perché se ci abbassiamo, secondo me, non facciamo fatica a portarla a casa una partita. Poi non è la mia mentalità stare dietro, aspettare, vedere che cosa succede, non è il mio modo di pensare. E' chiaro che l'ho preparata guardando l'avversario, come si comporta, questo sì. Domani la verifica per me è importante, per vedere se tutto quello che noi abbiamo cercato di fare in questi pochi giorni, in qualcosa viene applicato. Ho firmato un contratto per questi tre mesi e cercherò in tutti i modi di portare a termine l'obiettivo che ho nella mia testa, che è la salvezza. Una volta che io ho raggiunto quello, io sono l'uomo più felice del mondo. Mi confermano, non mi confermano, ma l'obiettivo lo devo centrare.